sentite urlare perché ho dei bambini di merda di fianco a me con delle pettoline gialle bene sto per uscire in una foto piena di bambini con la pettolina gialla aspettate che devo fare una foto con i bambini con la pettolina gialla ciao gargiuli, benvenuti, siamo a Londra, siamo a Trafalgar Square allora, questo è un video contest per tutti voi perché siamo arrivati ai 3.000 iscritti allora, non so se si vede il Big Bang là in fondo qua ci sono i leoni la National Gallery facciamola in fretta allora, in pratica siamo arrivati ai 3.000 iscritti 3.000 iscritti quantes? si struttura il fatto che voi, gargiulli o chiunque voglia può partecipare facendo una foto una semplicissima foto un contest fotografico il contest fotografico consiste in una foto che sia bella da vedere professionale, mettiamola così avete presente tutte le foto modificate allo stesso tempo deve essere ignorante cioè, la foto deve essere bella da vedere ma al suo interno deve esserci qualcosa di ignorante qualcosa che faccia ridere niente volgarità ragazzi niente cose oscene qualcosa di simpatico da vedere ma comunque la foto, ripeto, deve essere qualcosa di non dico di professionale ma che si avvicini potete usare tutti i filtri che volete tutti gli effetti che volete ma non usate Photoshop non prendete immagini strane le incollate dietro di voi o sopra di voi siete originali cercate di usare qualsiasi strumento a vostra disposizione va bene anche un semplice telefono basta che non sia un telefono di 20 anni fa che fa delle foto di merda un formato abbastanza alto ormai tutti gli smartphone hanno delle fotocamere bellissime allora, non ci sarà un primo non ci sarà un secondo non ci sarà un terzo ci saranno 5 vincitori i 5 vincitori vinceranno vinceranno le nostre patch nuove dell'SMT vinceranno le patch rotonde da 8 cm di diametro dell'SMT dall'uscita di questo video lo possiamo far durare lo possiamo far durare qui sotto al video ovviamente dovete mettere mi piace alla pagina Facebook e poi scriverci con un messaggio privato sempre sulla pagina Facebook mandandoci la vostra foto oppure potete mandarla via email al sito che è in descrizione al link smtairsofttv.gmail.com poi se mettete anche un bel mi piace al video se non siete ancora iscritti iscrivetevi ma quello lì è una cosa in più l'importante è che ci sia il mi piace sulla pagina Facebook e ovviamente la vostra foto allora ricapitolando velocissimamente foto il più professionale possibile con al suo interno qualcosa di divertente, di ignorante qualcosa che faccia ridere lo standard della foto comunque deve essere abbastanza alto nel senso non usate delle fotocamere vecchissime così almeno poi la foto viene anche bene il tema ovviamente dovrà essere il softair poi se comunque trovate anche qualcos'altro che sia comunque divertente e ignorante ok però essendo un canale di softair dobbiamo tenere questo tema le modalità di invio le sapete l'unica cosa che dovete mettere è il mi piace alla pagina Facebook se ci contattate via email diteci il vostro nome e cognome per vedere se poi effettivamente avete messo il mi piace sulla pagina Facebook avrete un mese di tempo e poi faremo le nostre scelte e niente ricordo non usate Photoshop per appunto Photoshopare nel vero senso della parola prendere degli sfondi diversi prendere cose al di fuori della vostra creatività usate tutto quello che avete sotto mano non andate a prendere che ne so anche qualsiasi cosa non andate su Google lo scaricate e mettetela sulla vostra foto cercate di essere originali con quello che avete voi ok detto questo ragazzi io vi saluto vi mando un grande abbraccio da Londra da M è tutto presto arriveranno anche dei nuovi video gameplay e scusate se per un po' non stiamo uploadando nulla ma tra lavoro e studio è un casino detto questo vi saluto stay angry stay bero grazie a tutti Grazie a tutti.